Stop alle consegne e presidi sotto la sede di Amazon a Milano. È stata una giornata di proteste oggi per il colosso di Seattle, combinata con l'intervento del segretario generale della CGL, Maurizio Landini. Ad incrociare le braccia sono stati i corrieri che hanno bloccato le consegne per un sit-in organizzato dai sindacati lombardi dei trasporti di CGL e Cisleville in piazza 25 aprile. Torniamo a scioperare nella filiera di Amazon, affermano i promotori in una nota, per denunciare i carichi di lavoro a cui sono sottoposti i driver che tutti i giorni consegnano i pacchi nelle case dei consumatori digitali. Le aziende in appalto, spiegano i sindacati, per accapparrarsi qualche rotta in più, spremono i dipendenti per consegnare tutto ciò che gli è stato assegnato anche quando il furgone è colmo di pacchi. Non si prendono in considerazione le condizioni meteo, la lunghezza dei tragitti, il traffico. L'importante è consegnare tutto e velocemente. Durante il periodo di novembre-dicembre il numero dei dipendenti assunti per le consegne delle aziende in appalto ad Amazon è triplicato, ma erano tutte assunzioni a tempo determinato. Osservazioni condivise dall'intero mondo sindacale per una protesta alla quale hanno partecipato anche la Filt e CGL di Torino e Piemonte. Occorre avviare da subito un confronto nazionale, spiega la Filt, perché questa nuova occupazione sia sinonimo di buona occupazione. Le condizioni di lavoro dei driver che consegnano la merce ordinata su Amazon sono difficili e necessitano di un intervento urgente in materia di salute e sicurezza per i ritmi di lavoro frenetici, orari di lavoro ultra flessibili e continue pressioni dovute ad un controllo a distanza soffocante. Amazon si avvale di piccole e medie aziende per le consegne, ma di fatto queste aziende forniscono solo mezzi autisti. Amazon controlla attraverso un device il rendimento degli autisti ora per ora, minuto per minuto. I sindacati chiedono che Amazon avvii subito un serio confronto con Filt, CGL, Fit CISL e Will Trasporti Nazionali, sia per i propri dipendenti, ai quali si applica il contratto della logistica, sia per gli autisti, che di fatto rappresentano l'immagine stessa di Amazon ai propri clienti.